E ragazzi, come va? Io sono Piero e Niki E in San Stefano, che senti che è una GTA 5 E finalmente è arrivato il grande giorno Finalmente Più o meno, più o meno Finalmente ho l'opportunità Sì Di avere il mio primo veicolo speciale E invece no E invece sì E invece no E invece ce l'avrò, quindi stai zitto Ci stiamo dimenticati Di un particolare Leggermente importante Non si può comprare un veicolo speciale Se non si ha l'ufficio e un garage Indovinate chi non ha un ufficio e un garage In questo momento io sto piangendo Anche se sembro impassibile Perché giustamente i gangsta non piangono mai Ok Sto piangendo dentro Ho proprio il cuore che piange Capito? Che allora Innanzitutto io non vinco mai E anche quando vinco perdo Cioè com'è possibile? Com'è possibile essere così sfigati? Nella tua natura Nella vita Esatto Cioè io proprio la sfiga Probabilmente capito Solo qui a fianco non la vedo Siamo migliori amiche Cioè non mi abbandonerà mai Perché non è possibile Non è giusta Cioè non è giusta Quindi avete capito bene Il veicolo che si voleva prendere Fereniki Se lo prende Steph Ovviamente lo utilizzerà Fereniki in questo video Lo potrà utilizzare Soltanto lei Però di fatto è mio Però vedi Allora mi è appena venuto No mi è appena venuto in mente Il lato positivo della cosa Ok Sarai il mio servo Cioè come ad esempio Hai presente le persone ricche Che sono talmente ricche Che hanno le persone Che gli portano la macchina Esattamente dove vogliono Loro Hanno l'autista Ok Quindi tu sarai così Cioè quando io ti dico Fammi apparire il mio veicolo Tu lo fai Ok Ho comprato quello da 2 milioni e mezzo Ti stavo per chiedere Infatti cosa cambia da Carlo Perché ho avuto un attimo di esitazione È più carazzato Però se li abbiamo Compriamolo Ok quindi vuol dire Che resisto di più ai danni No? Sì e per di più C'è una cosa molto figa Praticamente non solo Abbiamo il veicolo Ma sblocchiamo Un incarico del boss Che si chiama Spacca tutto Che non ho idea Di che cosa sia Ma credo che sia qualcosa Di molto molto figo Ma lo facciamo allora Eh mi sa di sì Quindi adesso Andiamo nel nostro ufficio E vediamo un pochettino Di che si tratta Credo di aver trovato Dove dobbiamo andare a ritirare Il tuo bellissimo veicolo Non ne sono molto sicuro Però proviamo ad andarci E lo scopriamo Cioè devi fare il bravo assistente Eh non sono molto esperto Vabbè però aspetta Uno è il magazzino E uno è il garage Una cosa importante Ieri è uscito Gmod L'abbiamo tolto L'abbiamo rimesso Praticamente in questi giorni I video non vi stanno arrivando a tutti Quindi alcuni di voi lo vedono Vi arriva la notifica Tutto ok Altri di voi nemmeno sanno Che esce il video Perché c'è un problema Con youtube in questi giorni Ci sta facendo dannare E per questo motivo Diciamo Che ogni tanto i video Escono in ritardo O scompaiono Eccetera eccetera Un problemino Che diciamo che stiamo avendo Questi giorni Che poi in questi giorni In realtà L'abbiamo avuto per due settimane Poi è passata una settimana Ad essere tornato Stiamo a vedere un pochettino Sì c'è sicuramente Qualcosina che non sta funzionando bene Magari non sono ancora riusciti A sistemarla del tutto Quindi purtroppo Esattamente Dovete avere pazienza Esattamente come noi Perché anche a noi dispiace Pubblicarli più tardi E così via Però vabbè Vabbè Almeno cerchiamo di pubblicarlo Quindi Esattamente Probabilmente L'orario diventerà Alle 14 tutti i giorni Perché almeno così Magari 14 14.30 Perché magari almeno così Riusciamo a fare un pochettino Sì penso proprio che Cioè avete più tempo Per notare che c'è il video Almeno Non lo so Io non vedo nessun veicolo Parcheggiato Come no? No Non c'è proprio nulla di nulla qua È vuoto come non so cosa Sembra un deserto Scusate un attimo Sì Dov'è il boss di questo SEO? Sono io Dov'è il mio veicolo? Allora Abbiamo un problema tecnico Ok si calmi signorina Tu sei dove Lascia in pace il meccanico È la più semplice del previsto Basta fare M Veicoli Richiedi veicolo speciale Spim Eccolo 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 Qui 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 Allora Io stavo per dire Che tutto quello Che ho desiderato nella vita Ma tutto quello Che desidero nella vita È un qualcosa Che mi butti giù Degli alberi Che davvero Puoi buttare giù di tutto E gli alberi Sembrano fatti di cemento Non succederà mai E lo sai anche tu Che nervoso Che mi fanno Se io corro dritto su di te Cosa succede? A parte che ti lanci a pesce Dal veicolo Devi stare immobile Voglio vedere se ti posso usare come rampa Ok Dopodiché proviamo entrambi a muoverci E vedere cosa succede Sono curioso Ho una macchina incastrata Scusa Levati Ok Aspetta che sto prendendo la mia nuova macchina Ti piace? Guarda Allora vado Secondo me sbalzi via e basta Vieni sbalzato via e basta Vediamo Finirà male Funziona però Hai fatto un bel volo Non è per niente male Cioè sei finito dentro Al di fuori e addirittura dei parcheggi Sì Funziona Oh mio Dio Possiamo farci un sacco di cose Allora adesso Al mio 3 Vai in avanti Ok E ci andiamo incontro Secondo me creiamo un buco nero Te lo dico Allora Un buco nero di un salto infinito Pronta? Sì 3 2 1 Vai 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 sto più veloce di te Aiuto Ok Massima velocità per entrambi Ma io non ti vedo Io sì Io sì Ti sto mirando io Stai ferma Vai 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 Aia Non funziona da rampa in movimento Deve stare ferma Solo se stai ferma Sì Esatto Oh mio Dio Bellissimo Ma secondo te Sbalza anche il carro armato? Allora Le cose di domande Tienitele per che si può fare Anche voi consolini Sia cose per si può fare Sia soprattutto la challenge La challenge è ancora più importante Vogliamo fare una sfida Dedicata a questo veicolo Quindi consigliateci tutto Quello che vi viene in mente Phantom Wedge Mi sono già dimenticata il nome Sì Phantom Wedge No ma una challenge no Quello non si può fare secondo me No è una challenge Come challenge? Per decretare il veicolo migliore No Una serie di sfide Che decreta quel veicolo migliore Non è convinto Non è convinto Non mi piacciono le tue idee Lo sai Eh no A me invece piace tanto Aia 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 In carico del boss Spacca tutto Inizia Ok No 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 C'è un problemino Sta prendendo fuoco Davvero? Non si muove più Penso che sta per esplodere Ah sì Ti prego no Sì sta esplodendo Vieni qua Vieni qua No dai Allontanati Ma dura pochissimo però Ma che pochissimo? Hai buttato giù metà città Cinque veicoli ho fatto E stai gestodendo Ma che cinque? Più cinquanta Aspetta non vedo neanche la mappa Mi sono dimenticata di rimetterla Delle ultime sfide che abbiamo Vedi? Guarda ne abbiamo uno nuovo Beh non la metto Ah ecco Allora forse infatti ha bruciato Proprio perché ne abbiamo richiesto un altro Salgo Ah beh sì sì Assenza Dove stai andando? Qui dietro Ah ok Tanto c'è se guido io guido tu Altri giocatori presenti in sessione Sono al corrente della tua attività E possono prendere di mira Te e la tua organizzazione Per guadagnare denaro e RP Abbiamo un player dietro Dove sei? Lo vedi? Dietro di noi Devi cercare di ammazzarlo Cosa vuoi? E beh nulla di pacifico Tira gli esplosivi Io ne metto Sto spando con il mitra Metto anche io le granate La tengo in mano un po' La lancio Ma perché non esplodere? Ecco ecco Arrangiati Ferrenicchi ha ucciso SpartanCV2000 Nessuno mi deve toccare il veicolo Cioè smettila Già oggi non è una bella giornata Mi sono svegliata di malumore Non mi hanno fatto comprare il veicolo Ci manchi solo tu guarda nella mia vita E non ha fatto visualizzazioni Per colpa di YouTube Ci manchi solo tu player del cavolo Ecco qua Non mi dovete cercare Sto cercando di riprendere la mia felicità Col mio veicolo Quindi lasciatemi in pace Ok Va bene Nessuno ti disturberà più Grazie Adesso concentrata Che facciamo la super missione bellissima Esatto Allora Cosa dobbiamo fare? Calmi 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 Mi sa che appena arriviamo Ti faccio salire a te sul veicolo Ok Anche se la tua abilità di guida No è perfetta Aspetta Non ti preoccupare Aspetta devo andare dritto così? Oh mio dio Sì vabbè ma ci siamo ribaltati noi Ci sono un po' di persone che ci sparano Io continuo a tirare granate Ok Ok io spacco un po' le cose È perché così muoiono Sono tanti eh No Dai ma Cioè non puoi fare una cosa del genere Sì la mia La mia tristezza più grande Guarda te lo dico eh Sopra la più grande Io non lo faccio apposta No no Lo sai che non lo faccio apposta No no Neanche parole per Ecco bravo Neanche parole per descriverti in questo momento Non mi vengono Sono talmente arrabbiata che non mi vengono le parole Era il procinto di distruggere tutto E sono andato un po' troppo dritto E i freni non sono la specialità di questo veicolo secondo me Ele Vai sul carro armato Ok Anzi no Facciamo che vado io sul carro armato e tu su questo Mi sembra giusto Mi sembra più giusto così Allora Praticamente Cerchiamo di arrivare a cinque stelline Con tu che distruggi tutto E io faccio esplodere tutto Ok Ok Quindi andiamo in città E divertiamoci Comunque voglio tirare uno spoiler Dato che oggi stiamo registrando per il giorno stesso Non capita spesso Facciamo i birbantelli E diciamo che cosa esce domani Ti ricordi che cosa esce domani? No Davvero? Sì Ma il cambio mi stava dando partire Lo dobbiamo registrare subito dopo questo Come puoi non ricordartelo? Ah Minecraft Esatto Ok Ok Non è la serie di cui vi abbiamo parlato nel vlog Perché per quella vogliamo finire di fare le ultime due cosette Sarà una miniserie che durerà poco Ma sarà super epica Ed esce domani Quindi preparatevi perché tanto YouTube non ve la farò vedere Quindi almeno sapete che c'è Stiamo scherzando Almeno sapete che c'è Almeno sapete che c'è È vero Dai andiamo ad ammazzare tutti Dove si va per la città? Scusami Da qui va bene secondo te? Boh c'è una specie di ponte rotonda Che schifo Eh non finisce più Togliti scusa Che noia Vai dritta vai Vado Ok Tu sbalzi E io poi esplodo al volo Vai Prendila al volo mentre vengono sbalzate Ok Ma è difficilissimo Se riesco a farne una è già un miracolo Allora sbalza Boom Ci sei? Ti ho un po' seminato Esatto Infatti un attimino aspettami Sei troppo veloce per Steph Eh lo so Dai muoviti Un attimo Ma questo non esplode Quello della spezzatura è immortale? Eh a quanto pare Ok no ce l'ho fatta Vabbè è fatto di ferro Quindi magari per te Ah scusi Ok Non mi stai spianando bene la strada Oh scusa E mi sono un attimino fermata Ti stavo aspettando Balsalo Non ci potete disturbare Boom Siamo a quattro stelle Attenta Non so se ti posso far esplodere E lo so ma non ti vedo Quindi mi devo fermare E vedere dove sei E allora elicottero Ok non c'è più Allora davanti siamo pieni di polizia Quindi muoviti che sta arrivando la SWAT Che succede? Mi hanno fatto esplodere Come? La polizia La polizia Con cosa? Non lo so Semplicemente sparando? Sì Ma com'è possibile? Ma doveva essere super blindata questa versione A quanto pare Cioè è arrivata una macchina della SWAT Sì Con tutti i militari Ok Io non li avevo neanche presi Quindi neanche a dire che è stato lo schianto E mi hanno fatto esplodere Ciao Fede Come stai? Che bello spettacolo Vendicati che mi hanno fatto esplodere Sti disgraziati Guarda Oh stai terminato tutta la città In questo momento Non c'è più nessuno vicino Eh Se lo meritano Cioè io con 5 stelle In questo momento Credo di star perdendo le stelline Perché non c'è più nessuno qua Da quanto ne ho ammazzato Oh vedi Un altro modo per evadere la polizia Non mi era mai successo di arrivare a una situazione del genere Ah no Manco a me Ok si sono svegliati di nuovo Eccoli che arrivano Così sono comparsi all'improvviso E andiamo a farci un tatuaggio Sì Vediamo se troviamo qualcosa che ha a che fare con i camion Ahia Mi ha fatto cadere un lampione addosso Scusa Guarda Ti spiano la strada Allora Bello Sì guarda Posso andare dritta Che neanche mi tocca la polizia Boh È bello che non mi stai neanche prendendo Stai avendo una mira davvero incredibile La so Sono molto bravo Eh questa la schiaccio Questa la schiaccio Scusate Scusate Questa la faccio esplodere Bene sono venuta a prenderti Dove sei? Qui Ah dove l'hai trovata? Aspetta però mi ci voglio stare dietro Vai Voglio andare dietro come i VIP Posso vedere? Come sta? Oh posso vedere all'interno Io l'ho vero oscurato giustamente Perché lei è la mia cliente Un po' la vedo eh Però non molto Figata figata No è proprio come le limousine di film Bellissima Ok partiamo Ok dove stiamo andando? Eh All'inferno Non è un bel posto Perché In una giornata così triste Nemmeno un buon tatuaggio Troviamo Va tutto male Ma perché non ci sono tatuaggi a tema? Perché? Tipo un'esplosione Qualcosa di distruzione No cioè Sono cose che su GTA capitano tutti i giorni E invece nulla E invece nulla Niente quello Quindi adesso stiamo correndo con la limousine E adesso ti ho una sgommata Sei pronta? Vai 3 2 1 Era bruttissima Cioè hai fatto un test a coda terribile Era stra bella Eh no Poi dovresti guidare piano Cioè i clienti delle limousine pagano tanto Per avere un grado Sì ma tu sei una buzzurra Non sei una cliente Guarda che adesso riprendo il mio veicolo E ti uccido Il tuo? Sì è mio E tu sei il mio schiavo Ok? Comunque ci fermiamo così Mi raccomando nei commenti Suggerimenti per un si può fare Dedicato al Phantom Wedge E anche dei consigli Per una challenge Sempre dedicata Vogliamo fare tutto dedicato Ogni volta che spendiamo E ci sta dai ci sta Tutti questi soldi Secondo me ci sta Alla grande E ovviamente poi continueremo ad usarlo Ogni tanto ne si può fare Proprio come il carro armato Eccetera eccetera Il Cargo Bob Purtroppo non ci esce Perché abbiamo un milione e tre Dato che La fortuna vuole Che neanche abbiamo beccato Il periodo in cui Ci sono i bonus Quindi non abbiamo i soldi Però ci possiamo Facilmente arrivare Perché mezzo milione Non è neanche troppo E quindi probabilmente Poi compreremo anche quello Comunque ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel caso Tanti likes Tanti commenti Tante cose E niente Per ragazzi Se è lì è così Se è giusto Scelteci i miei like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di scrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao